però secondo me l'hai eseguito molto molto bene ho capito bene che ci sono questi due sì esatto, come si rispondono in un certo senso e poi si incontrano in un punto intermedio ho pensato il range alto e il range basso proprio come un dialogo a due un po' così dove si incontrano ogni tanto in un punto intermedio che diventa il terreno di dialogo in un certo senso però l'ho pensato proprio così è molto molto meditativo una sorta di meditazione quasi dolce se vogliamo proprio anche questo abbassamento della seconda come vuole il terzo modo che scende giù dolce e anche un po' malincolico che dà un po' questa idea per cui ci sta benissimo guarda, dagli tutta l'espressività che vuoi come tempo anche andava bene? sì, 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 va bene perché è corretto anche per i salti che sono difficili alcuni salti sono al presente anche l'ultimo è impossibile di fatto l'ho scritto però sapendo che era impossibile però l'ho scritto per l'intenzione l'idea deve essere quella quasi di un importamento poi è impossibile però però si può fare insomma con un'idea poi dove arriva la mente il corpo in un modo o nell'altro riesce ad esprimerlo per cui sì, sì, va bene mi piace tutto io spero di capirlo ancora meglio questo secondo movimento perché secondo me c'è ancora da capire bene sì, ma capisco che anche io quando l'ho scritto è molto pensato è tanto intellettuale per cui non è immediato bisogna entrarci un pochettino dentro sì, ripeto particolarmente cioè volevo chiedere questa la parte centrale non c'è una cosa un po' particolare qua no? sì anche con come dire le alterazioni sono molto particolari sì questo ho trovato ho trovato ho trovato che sia diciamo un punto diverso confondo dall'inizio e dalla fine sì, sì poi di fatto hai scritto qua con molta espressione è una parte molto libera sì, molto espressivo molto libero senza stare senza stare al al ritmo già scritto diciamo esatto sì, sì tu puoi pensare proprio un po' interpretata se non vogliamo alla varocca molto, molto libera sì, sì è una parte con molta espressione sentiti liberissimo proprio di dare mettici la carica e trasmetta però come vuoi tu quella che vuoi tu ho capito non l'ho scritta non l'ho scritta così apposta perché ho detto no, qui deve esserci l'impeto proprio interpretativo dell'esecutore ok allora